Quattordicesima edizione per il premio Riconoscimento alla bagnarosità, come ama definirlo il presidente della Prologo Bruno Ienco, che si è tenuto all'interno della cinquantasettesima edizione del Gran Gala del Pesce Spada. Una serata sul filo della nostalgia e dell'orgoglio, nostalgia per un tempo che non c'è più, e orgoglio per chi nell'attraversare il suo tempo ha lasciato un ricordo indelebile nella memoria di tutti. Orgoglio anche per i premiati presenti in piazza Matteotti, che hanno dato testimonianza di capacità e intraprendenza nella propria attività lavorativa, nell'impegno sociale e culturale, di attaccamento e amore per la propria terra, diventando di fatto ambasciatori di bagnare della Calabria in Italia e nel mondo. Soddisfatti il presidente della Prologo Bruno Ienco e il presidente del Consiglio Comunale Paolo Gramuglia. Siamo rimasti contenti per la partecipazione, ma soprattutto siamo rimasti presenti per il modo su come si è avviata e conclusa questa iniziativa. Parlare di cultura è una cosa bellissima. Stasera abbiamo dato dei riconoscimenti a determinate persone che, alla base di tutto, il tema era volere bene bagnare. Questa splendida cittadina, che non detta solo da me, nella qualità di presidente della Prologo, ma anche dai partecipanti che sono stati presenti qui in piazza. Sono particolarmente contento perché con me c'è l'amministrazione comunale, presente qui il nostro presidente del Consiglio, che ha fatto gli onori di casa. Io auguro che attraverso loro, ma attraverso anche la presenza nostra e dei cittadini tutti di Bagnara, Bagnara abbia un futuro veramente erosio, perché lo merita. Portando il saluto di tutto il Consiglio Comunale colgo l'occasione per ringraziare il presidente Bruno Ienco per la passione e l'impegno profuso in tutti questi anni, affinché queste iniziative vadano avanti, queste tradizioni che sono il nostro paese e che portano lustro al paese di Bagnara. Stasera, secondo me, abbiamo vissuto una serata intensa di emozioni, una serata nella quale abbiamo ricordato il lavoro svolto da bagnaroti nativi di Bagnara, ma anche da figli adottivi di Bagnara che hanno portato lustro al paese di Bagnara. Quindi, pertanto, benvengano queste serate e benvengano queste iniziative. L'amministrazione comunale, ripeto, saluta la piazza, saluta il paese, ringrazia ancora una volta la prologo. Ci vediamo domani sera per degustare il pesce spada, una delle prelibatezze del nostro territorio, credo il prodotto di punta del paese di Bagnara, che va valorizzato e serve per far crescere il nostro territorio. Menzione particolare per i giornalisti Tina Ferrera, Pietro Melia, Gianmarco Iaria, Graziano Tomarchio e Carmelo Tripodi. E riconoscimenti per il maestro Antonio Cama, per l'artigiano Rocco Melluso alla memoria, Vincenzo Marcianò, autore e cantante, agli imprenditori Rocco Campennì e Vincenzo Musumeci, al dottor Giuseppe Messina e alla dottoressa Caterina Astelitano, dirigente medico del GOM di Reggio Calabria. Grazie al Presidente Bruno Ienco della Prologo per questo riconoscimento. Per me è molto importante, mi ha dato molta emozione e stimolo per continuare a lavorare bene. Io dedico questo riconoscimento a tutti i miei pazienti. Grazie Bagnara.